Ancora notti da leoni in piazza della Badia, urla schiamazzi fino a terdanotte, giovani e giovanissimi ubriachi, degrado e sporcizia nel cuore del centro storico Aretino. La Malamovida anche questo fine settimana ha trasformato così questo angolo della città, una situazione diventata insostenibile per i residenti della zona, come ci avevano raccontato alcuni giorni fa. Tra la gente sdraiata per terra qui, quella sotto casa, gli ubriachi, fumati proprio, vomito e di tutto non se ne può più. Io non dormo, vado avanti ad Anziolidici perché passo quattro notti in bianco alla settimana. Via del Saracino, via Saffi, via Pecori, via Cavut, tratto, ubriachi. Questa via del Saracino come le altre è diventata una latrina a cielo aperto. Ci affacciamo per dire qualcosa, addio mini guardi, quello che ci dicono e quello che non fanno. Fanno a turni a fare la pipì, non solo pipì, altre cose, urla e schiamazzi fino alle 4 del mattino. Questo fine settimana sono entrati in azione anche gli agenti della polizia municipale di Arezzo che avevano già acquisito le immagini delle telecamere di video e sorveglianza per verificare cosa fosse accaduto nei fine settimana scorsi. Sono scattate anche delle multe tra Piazza della Badia e Via Saffi per chi non indossava le mascherine. I controlli da adesso in poi saranno serrati anche per venire incontro alle richieste dei residenti che si sono già costituiti in un comitato che ha presentato un esposto nei giorni scorsi.